Ragazzi buongiorno a tutti e ben ritrovati con Dark Souls 2 e basta Allora so che avremmo finito in realtà questo posto ma siamo ma giochisti vogliamo esplorarlo tutto eh sì non ho poca dimestichezza adesso perché cambio gioco ogni giorno quindi sì va bene non è neanche difficile ho preso due colpi da pirva con la P maiuscola beh l'altro non serve voglio esplorare tutta la zona so che sto rischiando parecchio perché ho ventunmila anime ma rischiando si vince tranne la scopa che la ho perdi o che lasci bestemmia e basta soldi veneti potranno capire cos'ho ok buio ok grazie dello spoiler è uno spoiler ben voluto questo per esempio quando dicono attento scaletto va bene perché è uno spoiler che ci piace 1 2 che pippa aspetta come si gioca che qua in casino sembra già mi ha dimenticato dello scudo di Drangleic io dico togliamo io vi odio togliamo qualcosa si manichette dello straniero sul lato vuoto al modelfante eh no eh no proprio no non ci siamo togliamo no la cotta di Drangleic dobbiamo dobbiamo assolutamente dobbiamo tenerla cappuccio dello straniero affanculo e possiamo rimettere l'arco però quindi cambia poco solo che lo scudo deve essere cazzuto pare al cento per cento dei danni con i subiti secoli quelli da spada non da fuoco si quella d'arma normale non anche quelli da fuoco bene guardalo che stronzo manda vada vieni qui dai 1 2 e ultimo 1 2 ed è andato facile come qua niente contro la d vabbè so che lo ripeta ogni gameplay ma dovete stare sicuri se non siete sicuri vincolano in questo gioco punto e basta e non mi fido modo di questi muri qua perchè sono mezzi crepati mezzi no ok ora ci sono due scheletri è peggio dai venite qua no si va bene ero indietro di ero tanto indietro come ho fatto per fortuna che abbiamo l'anello del ripristino che semplifica le cose nel tempo recuperiamo hp si 3 hp alla volta non so un pochi ma è utile nel tempo una piccola sporpetta non credo sia la scelta giusta lasciare la scelta accetta io dico proviamo la mazza e pesa però io non vado infetterò adesso tornate indietro perché c'è una c'era che ci punta c'è una c'era che ci punta ora dov'è il ciccione si adesso dovrebbe arrivare uno quello la quello la dico attire attiriamolo qua e la c'era intriga ma io dico usiamo la spada di fuoco che tanto tanto ai vieni qui vieni qui dai hai le palle a due mani dai cazzo dai tanto qui se ti prende bene se no sei ciavatti anche se ti prendete già fatto lo stesso anche se lo scudo è visto non ha tolto così tanto però non pensavo mi sbrega pensavo mi uccidesse anche per la vita dopo stavo pensando per un secondo ci stavo pensando cazzo mare l'esplosivo ma no va beh è stata una mossa ventata ma siamo ancora vivi no ha comunque voluto fare in fretta si l'ho tirato perché piccolo spoiler ce ne sono due non salite per ammorti tutto quello che è sacro non salite quelle scale va bene non fatelo vi dico dopo dopo vedete perché si guarda il episodio e capirete piccola distrazione e qua cosa c'è effigio umana dopo non dovrebbe esserci niente rischio rischio ma dobbiamo adesso ah no cosa sbaglio 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 occhio ma sbaglio dovrebbe esserci niente di quelli cicioni questa faccenda si fa sempre più strana ah vabbè dai dopo vi spiego la palmarata ad assucene vediamo se riusciamo a beccarlo si becco la manazza vediamo un po' si magari allora non andate di là per adesso per adesso anzi saremo costretti da andare di sopra ho 22.000 anime so che rischio sto correndo se guardate ok ok non vi faranno niente ora eh col cazzo che non vi faranno niente via 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 dicomitiamoci qua che il metodo l'abbiamo capito potrebbe lanciarsi di sotto no niente ah non ho parlato in questo in questo lasso di tempo ero questi qua mi fan paura del cazzo è andato è lì tutti e dove ci sono girati in giù allora io aspetto dai dai vieni qua vieni qua vieni qua vaffanculo io resto qua aspetta 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 quello è bloccato giù quello è bloccato giù benissimo benissimo uno contro uno così si che si fa così si che si fa no 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 dai 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 qua qua e sino non attaccatelo mai quando fa uno due ultimo ultimo per poco allora spero che quello dietro dai non ha fatto così tanto male però abbiamo fatto bene a rimanere su perchè eh signore oh 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 sono accorto no cos'è? spada bastarda che bastarda oh oh cosa vuoi da me eh vieni qua vieni qua oh oh no no esageri esageri così esageri vai fuori dalle palle ah ahia è stata una mossa no 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 mossa stronza eh si ho sbagliato qui 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 fai fai il dev dovete sempre tornare in questo modo fatto ora ah quello da ci punta verrà eh figlio dello schifo animo adesso dato ignoto bene quello abbiamo già preso bene la prima volta che sono venuto qui ah frusta frusta bene effigio umano allora osserviamo cosa abbiamo preso spada bastarda spadone però quella di drangli che è molto meglio quindi no bocciato cosa mi ha introdotto dopo? frusta fa più danno ma non fa danno da fuoco e poi frusta frusta eh si va bene non è cioè non è rilevante come questo qua è ancora qui? e che c... avete visto tutti? si è spawnato da nulla dove sta andando? ah non state di mai proprio dietro che vedete? oh sono accorto ecco meglio scu... si tenete sempre lo scudo alzato cioè non sempre e... 70 li facciamo meno danni mi impressione eh 100 dai 78 o 70 o 70 no no si ok 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 credo che basti un colpo o due ok due colpi allora quelli di sopra sono morti tutti o ce n'erano altri o ce n'erano altri e spero che siamo finiti che uno due eh già 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 spirito oscuro per questo che vi ho detto uccidete tutto prima di venire qua anzi no non ve l'ho detto ma va bene no si ah sto qua usando la magia sto qua usando la magia oh che cavolo vuoi ah so l'arma che no non so la che arma ha allora so lo scudo ok comunque l'arma fa solo danno balistico perchè non mi sta facendo danno anche se parlo ok no no che cavolo è che cavolo è che cavolo è che cavolo è che cavolo tu non puoi permettere di visitermi qua non ti puoi permettere ah sti qua sono no ah sti qua sono spiriti scuri tipo che stati stati fatti dal gioco non pensate che viene viene evocato dall'esterno dai dai attaccami no no adesso li faccio oh ah che brutta fine vero mai essere avventati oh 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 cosa cosa ma io l'ho preso oh dietro un come pare le magie dietro un muro ma no dai vieni qui vieni qui vieni qui hai le palle eh dovevo sfruttare quel momento no no non me lo aspettavo vabbè o lo uscidiamo ora dobbiamo uscidere in fretta però e allora il meccanismo l'ho quasi capito ahio no no passa trevasi muri abbiamo finito le oh 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 no 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 pietà non sai quante anime ho non lo sai non sai quante anime aspetta ho un'idea ho un'idea no 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 ma come l'avevo perso in tempo ok ok se continuiamo così non vinceremo mai vabbè anche lui non è che stia messo benissimo cosa no 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 io sono sicuro sono sicuro al 110% che l'avevo parata quella no no è colpo di spalle che ok dobbiamo tenerlo un po' più lontano ahhh cazzo no 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 no.. fa' un culo ora ho il falò fottuto fottuto io sono fottuto ma lui aspetta aspetta Io che mai posso attraverso i muri sta roba Non volevo fare, non volevo fare Aspetta, accetta, 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 mi ero dimenticato della nostra motocchetta Nooooo 20.000 anime Aspetta, il falò l'abbiamo acceso Facciamo salvi Cazzo, io pensavo di tutto perduto, cazzo No, no, abbiamo il falò, cazzo, abbiamo il falò Ok, siamo morti come deficiente Ah! Comodo Aspettate, io stavo pensando Ultimamente non mi riesce molto bene il backstabbing Ah, Dennis Narvaiolo, è venuto fuori da qua Non so Aspetta, dai, crepa, crepa Dai, dai che cavolo, perché non puoi... Ok, ok, male, male, male E sì, perché non abbiamo uno spado, non perché sono abituato ad essere un guerriero Un'idea, ho un'idea, una tattica non... Eh! Eh! Sì, non è ottima Non ci vuol più l'accetta per il backstab Eh! Eh! Vi sto togli già di più Eh! È questo qua il metodo Cioè, devi backstabarlo, sennò Sì, ma stiamo finendo come prima No, 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 è troppo avventata È troppo avventata quella là che... E tu lo... Lo... E che lo stradisci con lo scudo È troppo avventata Si va bene, anche ora non è che stia andando benissimo Quella nuova Aspetta, aspetta Ha ucciso, morto, morto Yeah! E' morto Però che fatica Un gigante ha lasciato seme dell'albero dei giganti Che in pratica Allora, quando lo usi I nemici normali possono attaccare gli invasori Che normalmente non lo fanno Se non l'abbiate capito Qua non c'è Aspetta, è un mimic? No Bene Ah, amatura di cuoio, stivali di cuoio, cappello di cuoio, 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 cuoio Non sarebbe una cattiva idea da usarla Pff, illuso Allora, dico prima di Malfalò che ho paura che i giganti E quelli corazzati col martel Si, con la mazza, vengano A spingercelo in culo Allora, espuso del soldato, torre del cardinale Allora, tutti, li abbiamo esplorati tutti Nella forella Quelli che potevamo, ora li abbiamo esplorati tutti Ora dobbiamo andare Il mister L mi ha dato un messaggio, vabbè Risponderò dopo Ok, contro gli invasori stiamo un po' cappello Minchia Robin Hood Vediamo Allora, cuoio Ha pesa di più, però Ha pesa di più, però Si, si, ok, ok, ok Non ho fi... non ho... eh, infatti Mi ero illuso per un momento Aspetta, ora mi perfuno... no, non credo Vi spiegherò più tardi cosa, cavolo, sono E... vigore Iiii... ne possiamo potenziare qua Fede nel sole Adattavi... mh Eh, adesso possiamo fare un incantesimo Possiamo utilizzare un incantesimo Si è ben potenziato più robe Come dire Eh, no, armonizza E adesso... mi stai pigliando per il culo, vero Non posso usare questo incantesimo Perché non ho abbastanza intelligenza Io ti ammazzo lo sai Aspetta Ah non avete tenuto conto che avevo queste Ora la cosa si fa più facile Solo che ora ci vogliono 2000 Usamole tutte Tranne quelle dei boss Non vi dico perché Perché ve l'ho già detto Ve lo dirò quando sarà il momento Sì ok lo so Le voce carerè E le anime E qui Delizè Qualcuno mi odia Mi serve uno di intelligenza però Pure che strano Comunque c'ho scudo Sì è tanto utile Sì sì ok Rinforza Vediamo possiamo solo rinforzare No Titanite senti No Non rivolgerti a me così Adesso possiamo tenere più roba Tipo questo teniamo il cappello del fante Eh sì sto cazzo Eh sì sto cazzo Eh soldato vuoto Teniamo quello del soldato Gambagli Sì ti piacerebbe Ganti corazzati Ganti corazzati Ah ah Proteggono uguale ma Ma a 70% giusto ci è mai arrivato qualcuno Io e basta Aspetta De cuoio Marcante cuoio Soldato Ma scu' Ma scu' Vabbè dai teniamo questi Che non sono brutti Ah giusto abbiamo anche la chiave Oh sto povera ce non gli do mai niente Dai andiamo qua facciamoli una carità Dai cosa hai qui che da me Eh grazie che nessuno ti compra mai niente Buttisti prezzi da Mille anime Oh con mille anime Mi poté Sì no Con mille anime Sai quant'era che puoi farti Mille anime Mille Ok entriamo nella maledetta Nella casa maledetta Del tizio Di quello Ti spacco tutto Ah che bel libro Libri pure Come mai i libri sono così grandi E' tutto più grande di me qua Perché c'è un morto in casa tua Pietra di Pharos Bene Potremmo andare a attivare quel meccanismo La foresta dei giganti Ma Ma voi ormai odiate la foresta dei giganti Perché Quante volte ci sono stato Insetto più No ero curioso quindi Sì non c'è niente in questa A parte Questo qua Sì è la mappa Perché c'è gente morta Ah giusto No seriamente Perché c'è gente morta qua Perché la gente muore contro questo Contro questo qui Guardatelo E' un insecte E' un Ok ok E' più pericoloso di quanto sembri Però l'ho ucciso Non pareva così difficile Cos'è questo? Frammento di Sì Pieschetta Osserva attentamente Ancora questo Non lo so Cos'è Bello com'è Fa un rumore diverso Ricettacolo per anime Sì sapete perché Ancora C'è un I ricettacoli In pratica Tu Torni all'inizio Dove Hai fatto la scelta dei punti Vai là Con il ricettacolo E riassegni tutto In pratica Questa cosa È stata inutile Vorrei un'ascia Però Ascia Non accetta Le azette Non si possono definire Asce Cosa c'è di qua? Mmm Il sole Infatti Praise the sun Oh Non è un mimic No Ok Non ho imparato Come distinguere Frammento di titanite Ah Titanite Ok Non mi trovo Rasso Ci sono Sì Sono i porchi Da I porchi Chi è che ha fatto Sto casino Ah Siamo tornati qua Di qua Non c'è niente Torniamo giù Tanto vale Andiamo con la spada A combatterli Stanno venendo a cercarmi Sì Dai Arreo sto Dai bastardi Dai Venite qui Venite qui Vedete quanti danni Ti facciamo adesso Oh Non ci hanno dato Proprio un Cazzo La madonnina Ora andiamo dal poveraccio Qua che Dopo Si Dopo un tot di anime Che spegne da lui Vi da un'armatura Che Che si E' buona Marma di fe No Qua Cos'altro vai Stivali del falconiere Quanto pesano No Non la compro Ammo del falconiere Mi piace Questo fanconiere Ok E' un po' quanto è bello Si si cavolo Si è bello Ah però ci appesantiscono Io dico Si solo perché è bello Va bene Guarda qua con il pennacchio In testa Che Che sembra Che sembra un Che cosa sembra Ah beh Il gatto qua Ci sono già stati No Oh si 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 ci sono stati Dov'è Eccolo qua Perché i gatti Parlano In questo gioco Ehi Non mi susuri Eh Ok Si si va bene Va bene Ora qua L'abbiamo già fatto Si L'abbiamo già fatto Ora C'era un punto Un luogo Che Eccolo qui Qua bisogna Andare giù L'ho fatto Si L'avevo notato Anche all'inizio Ma prima Fate la foresta Dei giganti Dopo questo luogo Perché questo luogo E' più difficile Il marchi ingegno Lo muoveremo Più avanti Qua non c'è un cazzo No Un cazzo Un cazzo Si va bene Non c'è un cazzo In pratica In pratica Ma in teoria Si controllate 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 Non fate come me Io non so Quante ne ho mancati Ho scale a chiocciola 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 Farma Farma Gremisi Qual è? 75 No Te lo puoi mettere In Quel posto Non voglio dirlo Tanto che siamo bene Con quest'elmo Perché ormai in questi Dove non ne è più Oh questo qua Potrebbe di più Mettiamo questo Ormai no Con questo sto meglio Mettiamo questo Adesso si chiudere La porta alle mie spalle No Che strano Si questo No Non fa niente No Perché Sto gioco Sto gioco Non vuole fare i salti Fa tutto Fatto bene E non fa i salti Vedete che non fa i salti Si è bella La porta si è chiusa Proprio I salti sono vietati In questo gioco Com'è che c'è arrivato Quella Ah Giusto Così Cosa dice Inutile Lì c'è un oggetto Mi piace saltare Spada da ladro Spezzata Spada No 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 Tenetevela Spada bastarda Spada di Drangleic Estoc Spezza corazze Tra un po' Troveremo dei Gente morta Gente morta Gente morta E per volta Con le spalle Ma fai attenzione Freeze Sooo Solere Stranza Oh L'ha presa male Dai attacca Ah Che brutta fine Non è così? Questi qua Sono i cavalieri Di Heidi Di Heidi Non mi aspettavo Un altro colpo Uno Due No mi ha preso Uno Due Non è morto Repa Mi siamo prolungati Troppo con questo tizio E' meglio se ce ne andiamo Oh Chi è quel Chi è quella bestia Ok Comunque Quelli lì Bianchi Lì non ci attaccano Finché Sii Allora faccio in tempo Attaccarli 50 volte Oh Il secondo attacco È temibile Perché Fa una spazzata All'indietro Che Che ha i dolori Li senti Falò No Non andrò al falò Voglio solo se muoio Andrò al falò Questi qui Quelli Vedete quelli Li vedete Li vedete Qui li ha con la mazza Li odio Soler Svegliati Dai attacca Uno Due Pessimo tempismo Vabbè Se moriamo Pazienza Sono io che ho fatto il cazzone Ci vuole tempismo Vabbè Sì A volte ci mettiamo anche mezz'ora A commentare sti qua Che? No vabbè L'avevo parato Comincio a odiare di questi tizi Ah una freccia Ah delle frecce Configate negli occhi Ecco perché Mi sembrava strano che non mi vedesse Oppure non so Non distingueva bene I nemici degli amici Perché era mezzo Rincoglionito Ciao Oh Il terzo non me l'aspettavo No Il quarto non me l'aspettavo Il secondo Attenti Adesso possiamo attaccarlo Tu sei un vero figlio di puttana Lo sai Ora questi qua No vabbè Questo quello là Lasciamoli in pace E io non pensavo neanche Che potessimo Potessi preparare Di questi qui all'inizio Infatti andavo lì Come un disperato Aiuto Come si fa Ma ti ho perso Tipo una settimana A far sto livello Perché adesso Arrivo con lo scudo Che para tutto Vabbè tanto Ti fanno Ti tolgono anche poca energia Io pensi C'è a parte che sono Pietra pallida Serve a togliere Gli incantesimi Che hai fatto Alla Eeeh Eeeh Boh Ah già Se hai fatto degli incantesimi Ve lo spiegherò più avanti Non ho voglia di spieghervelo adesso Se cadeva Giù Ridevo Ah Guardate che sto ridendo anche ora Quindi non c'è niente da ridere Senti io non posso girare in tondo Guardate che l'ho appena fatto Morto Raccoglio oggetto Globo dell'occhio blu incrinato Una leva? Si presa stanno Lo so Cosa aziona? Cos'è? Deve aver attivato qualcosa Vabbè Si La piattaforma ha attivato Ora Questo qui E' un po' difficile Questo qua Si Questo qua Tutto Tutto Vedi Appena lo vedi Capisci già Io ti ammazzo di botte Finchè non svieni E poi c'è questo protocadavere No Non mi ha tolto così tanta vita Non mi ha tolto così tanta vita Quando arrivavo disperato Di solito in due colpi Uno, due Ma morto Uno alla volta Uno alla volta Uno alla volta Io di solito Cosa ho azionato? Ah Io di solito facevo così Tra le mani di Lloyd E gli dico Andavo qua Finchè quei due non indietrezzano Finchè Quei due non indietrezzano Così uno Dopo venivano fuori Uno a uno Ai solar che abbiamo ucciso qua E respawnato O non mollano eh Si voi indietreggiate E vuoi un altro scontro? Dai un altro scontro Sono pronto Uno Due No Finito Ho già fatto Faccio colpo Indietreggio E perché lo manco? Devo usare la lancia qua Eh Questo qua non ce l'aspetta mai nessuno Lì mi ha preso lo stesso Il figlio della merda Adesso Già Vai vai Ti lascio andare Perché sono Clemente E vieni qui Vieni qui Vieni qui Sto scherzando Sto scherzando Sto scherzando Sto scherzando Puoi andare Puoi andare Puoi andare Puoi andare Vai 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 Questi qua dobbiamo I mixtabarli Ecco cosa Ma non possiamo Fare in un corridoio Non c'è Un senza speranza Sta cosa Dai attaccami Taccami Accetta 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 Accetto le due decisioni Oh è già più effetto È già più effetto Non fa attacco Dai Uno due Io aspetto Di solito che faccia i tre attacchi Ho questa cagata Oh nei corridoi Va bene Questa Questa Uno due Ah si qua li distrae Anche un po' Quindi Solo 600 anime Io ti odio Beh solo Madonna Non è che siamo poche Lui vorrei fare l'utopia Andare direttamente A compiere il boss Ma Lì c'è un drago E i draghi Non sono conosciuti Per la loro amicizia Almeno No in Dark Souls Allora se non sbaglio Ora dovrebbe Arrivarne uno alla volta E basta Il tiro è vicino qua Ecco E arriva solo lui Accetta Cavolo certo che Fatto Guardate sta a guardare Il suo compagno Morente Ehi vieni qua Ti sfido Vai Scura Tipo 4000 anime Oh mio dio Sono ricco Nella realtà Sono delle merdine Oh oh Uno due Tre Sì ho fatto la combo Azzardata La tre Ma Dopo c'è un Un cavaliere di Hyde Ma Quello Quei contro Coglioni Ma davvero è qui Contro Coglioni È davvero forte Dovremmo andarti su di lancia Così tu attacchi Cioè con la lancia Puoi integrare anche se sei protetto Merda potremmo usare la tua lancia Ma Non sono le armi adatte forse Allora secondo Prima Qua Uno Ah si sono già resi Quindi colpisci uno Lo tiri Lo uccidi E dopo vai dall'altro Quella va Siamo qui Tipo arena Esecuzione Ah il boss Questo qui sarà Questo è opzionale Dove sto andando io Ma Ma Ragazzi Fate Molta attenzione Ops Ecco Ecco Oh 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 Ha preso troppo su serio Io dico Accetta Perché l'accetta Ci fa Accettare le tue decisioni Il terzo colpo È lasciato a casa Ora si che possiamo Stavarlo con meraviglia Come non detto Sti qua non sono stupidi Ah poi guardatelo Tutto armato Non possiamo Extabarlo Credo Attacchi pesanti Distordiscono Il terzo attacco L'ho lasciato a casa Uno Due Uno Due Fatto Vedete che Ti distraggono un po' Se non ti attacca Credo che ora E Aspettate che Vasi al terzo Che magari No no Va bene anche il secondo Va bene anche il secondo Ma se che gli stiate È abbastanza vicino Però è un peccato Che non si possono Backstabare Io avrei fatto un Degeio Se potessero Backstabare Questo è facile Dai Quello il primo Che mi dice Che è difficile Gli spacco Ok abbiamo finito La stamina Ora si che siamo Nella cacca Attenti il secondo Fatto Secondo Sono indeciso Tra usare Sì L'accetta L'accetta E con il colpo forte L'accetta Poi Occhio qua Gemma vitale Devo smettere Di dire vitale Eccolo lì È di shot È di shot Dico colpito Finchè potete Così Oh oh Abbiamo usato Quello di fuoco Gli abbiamo fatto Un cazzo Di danno In pratica Sì Allora Gli attacchi Ahio Sì Allora guardate Fa una combo Tipo Superman E qua Andateli di lato Schivare il lungo Non è tanto Non è consigliato Eh E ora Ok devo ricredermi su sto dimmigo qua Giuro che Vabbè E fatte che La prima volta Avevo un altro sistema Di combattimento Allora Boss I draghi Sono resistenti Al fuoco Noi cosa facciamo Accetta Perché accetto Le due decisioni Dalla prima All'ultima Molto bene Signor drago Io Vengo Per No 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 Tu non hai capito Non hai capito Sotto Cosa dovete fare Sotto le zampe Il terzo era Dovino Allora Pare una barzelletta Ma cosa cavolo Sto facendo Che cagolate Una cazza Non è Eh No Se cadevo giù Se cadevo giù Non voi non sapete Cosa 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 possono fare Certe cose Ok Non abbiamo più Piaschette Per il boss L'abbiamo ucciso Yeee Si Osso di drago Parma del drago Benissimo Non poteva andare meglio Al primo colpo L'abbiamo di fatto fuori Un applauso a me Comunque allora Questo boss Quello che verrà Adesso È un boss Di quelli tipo Non devi assolutamente Avrati prendere Allora Mi dice Che Il parma del drago guardiano È meglio No Tanto Poi il guerriero col pennacchio Mi chiameranno Guardate che pennacchio Che ho in testa Oh Caterale del blu Perché non è rosso Del bianco Il bianco ci si abbina bene Effigie umana Però amico No Lo provrò in successione Vabbè ragazzi Vabbè ragazzi Tanto lo so già Lo farò il prossimo episodio Perché voglio fare cose Fatte bene in ordine Quindi godete il panorama E prese Al prossimo episodio Il bianco ci si abbia un po' di più Il bianco ci si abbia un po' di più Il bianco ci si abbia un po' di più